Un caro saluto da Maria Giuliaci, il tempo previsto per venerdì 30 giugno. La perturbazione atlantica giunta nella giornata di giovedì al nord si propaga a quasi tutto il centro nord e marginalmente anche alle regioni meridionali. Rovesce temporale quindi su tutto il centro nord, anche di forte intensità qua e là, soprattutto sull'Emilia occidentale e sulla Toscana. I suonati temporali pomeridiani anche su Puglia, Lucania e Campania. Temperature in calo quasi ovunque, massime intorno a 25-27 gradi sulla regione di nord-ovest e Tireniche, 27-28 sulla regione di nord-est del medio Adriatico, 30-32 gradi su Puglia, Calabria, Sardegna, 32-35 nell'interno della Sicilia.